Hai finito? Mi ha sgridato. Scusa? In due parole questa canzone che parlate a te. Due? Resistenza e speranza. Ho messo una E di congiunzione. Ma per me non parlare di politica, ma per me parlare di sbarchi. Parla di sociale. Quindi non allude a Sarabini? Allude. Se questo comandante di cui parlate fosse Sarabini? Se volessimo alludere... E vini dovremmo dire capitano, no? Eh, se non conosci i ruoli... Perché quando si è capitano... Diciamo che allude a una politica fatta solo di... Campagna elettorale. E cose che non fanno bene né ai migranti né agli italiani fondamentalmente. Secondo me dovremmo affrontare questo tipo di argomento che è... Non lo so, è una migrazione importantissima, epocale. La dovremmo affrontare con un po' più di serietà. Invece ovviamente vedete tutti questi microfoni e le telecamere che buttate qua. Figuratevi se arriva un politico che fa dichiarazioni forti. È un po' un gioco delle parti. Molto spettacolo e poca politica completa.